A cavallo fra il 1700 e il 1800, quando i neri nel continente africano furono portati in schiavitù al diario atlantico a lavorare nelle piantagioni di cotone negli Stati Uniti meridionali, la loro musica le accompagnava spesso durante il giorno e per alleviare la fatica nacquero le plantation songs, campi della piantagione, da cui derivano i world songs, campi di lavoro. La musica negro spiritual diventò sempre più importante e conosciuta, dall'essere una musica rurale accompagnata principalmente dal battere delle mani, diventò una musica urbana arricchita da nuovi strumenti musicali. Dei numerosissimi canti spirito tramandati nei giorni nostri, ora ascolteremo Go Town Moses, My Lord, what's a morning, Joshua? In prese cesirà l'esecuzione del trombone del maestro Mauro Palette. Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.